Dopo l'ok ai nuovi collegamenti ferroviari con Milano, già inseriti nell'orario invernale di Trenitalia, torna già da domenica, 15 dicembre, il treno Trieste-Lubiana. La stazione di riferimento sarà quella di Villa Opicina, per troppo tempo rimasta marginale. L'orario prevede due partenze quotidiane da Opicina, alle ore 10.29 e 17.24, con arrivo a Lubiana rispettivamente alle 12.41 e alle 19.29 e due da Lubiana, alle 8.10 e alle 14.33, con arrivo a Opicina alle 10.15 e alle 16.37. In entrambe le direzioni sono previste brevi soste a Sesana e Divaccia, ma nella versione finale dell'orario, in fase di definitiva messa a punto, ci sarà anche una fermata postumia, utile per i visitatori delle grotte e del castello di Erasmo. I biglietti potranno essere acquistati anche direttamente sul treno. Gli orari prevedono coincidenze a Opicina con gli autobus della Trieste Trasporti per il centro città e a Lubiana con una serie di opportunità di partenza verso Zidani Most, Zeli e Maribor, verso Zagabria o nella direzione di Villacco, ma anche verso Vienna. Per l'assessore del comune di Trieste e di Krauss, i nuovi collegamenti potranno comportare ottime ricadute, sia nell'incremento dei rapporti commerciali, sia in chiave turistica.